Radio Bruno Allora, le eccellenze nascono con il bontà per il nostro territorio cremonese, noi nella campagna, partendo dall'orto, partendo dagli animali da cortile, fino ad arrivare ai nostri piatti, che sono frutto di famiglia più che altro. Non mi considero una chef, mi considero una cuoca, mi considero una persona che accoglie le persone e cerca di farle stare bene in questo contesto che direi piuttosto importante, questo Castello del Mille, di cui io sono veramente innamorata. Da lì parte tutto un discorso di cucina, quindi ricette di famiglia, e ricette che si riconducono anche a una storia, storia di nonni, di nonne, di pentole, di poesia, direi. La provincia ti porta anche sempre un pochino alla nebbia, i paesaggi sempre un pochino un po' addormentati, però non incapaci, ma non solo nel ristorante che propone, ma anche nei clienti, negli ospiti che abbiamo, perché sono persone che io penso abbiano già una profonda cultura di cucina, quindi non si accontentano, sono piuttosto esigenti, e questo ti porta sempre a dover dare qualcosa in più. Poi sì, è vero, c'è un pochino di, soffriamo un attimo, però nello stesso tempo io non mi posso lamentare, non sono sempre portata avanti i miei clienti, ho avuto comunque le mie soddisfazioni, sono ormai 30 anni che lavoro nel Castello di Breda, perciò posso dire che sì, è un lavoro che comunque mi piace tanto. mia figlia, che può essere una buona spinta, che cerca comunque cose nuove, io rimarrò sempre di tradizione, io rimarrò sempre la gallina vecchia che fa buon brodo, però nello stesso tempo sono attenta anche ai prodotti che stanno uscendo, e questa sera ne abbiamo avuto prove di mostrazione, perché ho portato in tavola dei formaggi veramente straordinari, ne ho scelti due, sempre nella mia semplicità, nelle mie ricette che sono estremamente semplici, ma che già davano loro una grande cultura, una grande preparazione, e quindi una soddisfazione anche per me che li cucino. È ricco soprattutto di famiglia, perché questo posto l'hanno aperto i miei genitori, mia madre Milena Sinelli e mio papà Emilio Sacchi, e ho deciso di intraprendere questo percorso e continuare sull'orma di mio padre in cucina, soprattutto quando è mancato un anno fa, in cui ho iniziato a provare la stessa passione che provavano anche loro per questo lavoro, perché nonostante sia un lavoro molto pesante, molto difficile, dà un sacco di soddisfazioni, sia a livello personale, a livello artistico, e mi piace anche il fatto che sia comunque un locale che mantenga una tradizione, una storia, Tutte le ricette che noi proponiamo e che i miei genitori hanno sempre proposto sono frutto di uno studio, frutto magari di ricette di nonne, zie, parenti lontani, o ricette storiche dell'ambiente cremonese. E questo è quello che apprezzo di più di questo locale. Quello che mi spinge a lavorare qui penso sia proprio l'idea di famiglia che ho. Io ho un'idea di famiglia molto stretta, molto unita, in cui si fanno le cose insieme, in cui ci si mette amore, in cui ci si mette passione. E la cosa che mi avrebbe fatto soffrire di più quando è morto mio papà sarebbe stata quella di lasciare mia mamma da sola. Io prima di lavorare qua stavo facendo un percorso di studi completamente diverso, ma sono molto felice di aver continuato qui piuttosto che continuare a studiare. So che non è una cosa comune da dire, però mi sta dando tantissime soddisfazioni, tra cui anche questa serata. Io apprezzo tantissimo questi tipi di iniziative, soprattutto nella città di Cremona, che spesso è lasciata un attimino indietro, un attimino in disparte, oppure in cui vengono fatte iniziative solamente con dei premi, in cui l'unico motivo per cui si partecipa è proprio l'obiettivo di ricevere qualcosa di materiale. Invece questa serata mi è piaciuta molto per il fatto che ci guadagniamo tutti, nel senso io ricevo pubblicità, i prodotti che ho ricevuto sono fantastici, sono veramente ottimi, anche in modo per conoscersi, perché ovviamente non tutti conoscono noi e noi non conosciamo tutti gli altri. Questi tipi di iniziative sono veramente, come potrei dire, una gioia per Cremona, dovrebbero essercene molte di più. Quello che vorrei è che il mio locale, il nostro locale, riceva il successo che si merita. Vorrei che i nostri piatti fossero conosciuti e apprezzati per la loro semplicità, non per la bellezza del posto o per altro, ma vorrei proprio che fosse apprezzato l'atmosfera di casa. qui cerchiamo di fare rimanere i clienti in un ambiente più semplice, caldo possibile, non il classico ristorante freddo, in cui si mangia e basta. Vogliamo dare una spinta in più e mi piacerebbe tanto che questo posto venga conosciuto anche fuori da Cremona, fuori dall'Italia, mi piacerebbe andare avanti. Grazie. Grazie. Grazie.